Signori, quest'oggi giochiamo a Subatomic, seguito spirituale di Cytosis. Questo qua era un worker placement che riguardava le cellule, qua invece abbiamo un deck building nella fase atomica. Allora, questo è lo sviluppo nucleare, quindi dobbiamo creare come obiettivo di partita queste molecole, l'elio, il litio, il boro, eccetera. Per fare questo partiamo dai semplici quark, quindi up quark, down quark, i fotoni, andiamo a rinforzare il nostro mazzo, quindi creando elettroni, protoni, neutroni e poi particelle subatomiche più grandi, quindi doppio protone, doppio neutrone, eccetera. Andiamo quindi a creare le molecole, qui l'elio, il boro, il litio, eccetera, che sono punti di fine partita più eventuali punti dati dalle maggioranze, vediamo poi come sugli end goals. Abbiamo sempre 5 carte in mano, i giocatori nel loro turno vanno a giocare quante carte vogliono e fanno azioni fin quante carte hanno in mano. Ora, la prima cosa è creare le particelle, diciamo, subatomiche piccole, che sono queste qui. Quindi, per creare, per esempio, un neutrone abbiamo bisogno di due down quark e un up quark. Per creare un protone, due up quark e un down quark. Per creare un elettrone abbiamo bisogno di due fotoni. Altra possibilità è quella di giocare un qualsiasi numero di carte a faccia in giù per creare dell'energia, che sono questi token qua. L'energia è molto importante perché queste carte, oltre al costo della carta, ci costano un quantitativo di energia a seconda della colonna, quindi 0, 1, 2 o 3, e gradualmente vanno scontate, slittando tutto verso destra. In più possiamo comprare degli scienziati, ce ne sono 7 nella scatola, ne scegliamo 4 casualmente, di ogni scienziato ce ne sono 3 copie e hanno un costo crescente in termini di energia. Queste chiaramente sono delle carte che vanno a finire nel nostro mazzo e ci danno un'abilità specifica. Poi, come tutti i deck building che si rispettino, abbiamo la possibilità di eliminare dal gioco alcune carte e qua la chiama annihilate, quindi utilizzando l'energia andiamo a rimuovere due carte dalla mano e poi il prezzo salirà, come vedete parte da un numero diverso a seconda del numero dei giocatori. Quindi iniziamo subito con questo giocatore, per esempio, andando a scartare un down quark e un up quark possiamo fare un neutrone, tuttavia abbiamo bisogno di energia. Quindi utilizzerò questa carta a faccia in giù e diventa un'energia. Poi utilizzerò due down quark e un up quark per creare un neutrone. Il neutrone lo creo spendendo l'energia che ho appena acquisito, la carta va negli scarti e questa carta qui mi rimane in mano e pesco a fine turno fino ad arrivare a 5. Poi slittiamo tutto verso destra, allora due up e un down, questo down che diventa una energia, ok? Voglio fare un protone, quindi servono due up e un down, vado a fare questo, vado a spendere l'energia e poi rifillo fino ad avere 5 carte. Io vorrei fare a questo punto un altro neutrone, ah vabbè, utilizzerò queste due carte a faccia in giù come due energie. Poi due down, un up per fare un neutrone che mi costa due energie che vado a spendere e voilà, ho un nuovo neutrone. Ovviamente il mio mazzo è già esaurito, quindi rimescoliamo gli scarti. Utilizziamo subito due fotoni per creare un elettrone. Prendiamo quello più a destra che costa zero energia. Eventualmente abbiamo due up e un altro fotone. Per adesso li uso a faccia in giù per ottenere tre energie. A questo punto anche io voglio giocare due fotoni per acquisire un neutrone. Questo up quark non mi serve molto, a questo punto lo utilizzerò per guadagnare un'energia. Dopodiché, altra opzione è utilizzare le carte, i quark in varie combinazioni, neutroni, protoni ed elettroni per incrementare la quantità di questi elementi qua sopra. Ora, per esempio, scarto questi due neutroni e sposto il mio indicatore sul 2 blu che rappresenta i neutroni. Quindi qua abbiamo lo spazio per due elettroni, cinque protoni e sei neutroni. Avendo e costruendo questa situazione qui abbiamo la possibilità di creare le molecole per i punteggi. Come notate abbiamo la possibilità in qualsiasi momento del nostro turno di utilizzare l'energia per fare le azioni bonus. Quindi con un'energia posso scartare tutte le carte di una riga e rifillare e scegliere. Con due energie posso pescare una carta e con X energia, secondo l'indicatore, andiamo a eliminare due carte dalla mano. Allora, con due down e un up potrei fare un neutrone, tuttavia non ce ne sono a disposizione. Allora, per prima cosa vado a spendere un'energia, scartiamo tutte queste carte. Ok, adesso ci siamo. Quindi due down e un up per fare un neutrone. Gioco un protone e un elettrone, quindi aggiungo un protone e un elettrone. E un down, potrei fare un protone, tuttavia ho bisogno di un'energia. Queste due carte a faccia in giù per ottenere due energie. Poi due up e un down per fare un protone. e spendo due energie. Direi di nuovo due fotoni per creare questo elettrone. Poi ho due down e un up. Bene, li scarto, mi prendo questo neutrone spendendo una energia. Bene, è uscito il jolly, che costa uno per tipo e anche tre energia, però è un jolly, posso scegliere uno degli elementi. Quindi, allora, siccome ho preso già un sacco di neutroni, direi che un down a faccia in giù per ottenere una energia, poi spendo queste due energie per rimuovere due down dal gioco. E il costo qua dell'annientamento incrementa di uno. E mi rimane un fotone e un down. Che direi che posso scartare anche l'ora a faccia in giù per due energie, così ho una mano completa. Allora, giocatore qua direi che, vediamo un poco... Allora, un elettrone lo uso per aggiungere un altro, il secondo elettrone alla tabella. Poi abbiamo due up. Sai cosa faccio? Utilizzo questo a faccia in giù per ottenere una energia. Queste tre carte le voglio invece tenere in mano, perché cerco di crearmi un jolly, sì. Pesco due carte a fine turno, forse... no. Allora, io con questi due neutroni potrei creare questa carta con un doppio neutrone, che chiaramente rende più snello il deck, eventualmente, se poi rimuovo queste. Un elettrone lo uso per caricarmi un elettrone sulla plancia. Eccolo lì. Il fotone è l'upquart, che li faccio diventare due energie. Dopodiché, spendendo due neutroni e due energie, più una energia, perché si trova in questa colonna, vado a crearmi due neutroni. Questa carta la posso usare o come due neutroni o come due energie, una volta che la pesco, chiaramente. Slittiamo tutto. Questo qua diventa una energia. Poi spendo un fotone, un down, un up e tre energie. Però mi serve un'altra energia, quindi elettrone a faccia in giù purtroppo sì, ma tanto sono pieno di elettroni. Spendo queste tre, più tre energie, per questa carta, più uno della colonna. Ok. Vado a crearmi il jolly. Allora, siamo a secco di protoni. Il che non è molto bello. Però guarda, io il protone lo scarto per creare un protone, che è il primo, e queste carte qui facciamole diventare tutte energie, quattro energie. E qua la crescita, chiaramente, è molto lenta, però vediamo se posso fare qualcosa. Allora, un neutrone lì, quelle lì costano un casino. Allora, mi creo subito un neutrone, lo vado ad aggiungere qui. Ok. Abbiamo un doppio fotone. Vediamo un po' se riesco a fare un altro elettrone, non sarebbe male. Queste due faccia in giù e diventano due energie. Poi spendo un'energia per ripulire questa situazione. Con questi due fotoni potrei attendere e creare un altro elettrone, ma sono pieno attualmente. Ma sì, li tengo da parte. Allora, guarda, un elettrone, me lo creo spostandomelo qui, poi vado ad aggiungere un altro neutrone. Questi non sono male, tuttavia guadagno tre energie. Vediamo se posso prendermi uno di questi. Potrei prendere Schrödinger. Allora, mi fa scartare un qualsiasi numero di carte e pesco lo stesso numero più uno. Il che non è male. Non è assolutamente male e mi costa quattro energie. Ma sì, la prendo, dai. Fotone, up, down. Allora, se io scarto questi, posso prendermi... Facciamo in questo modo. Scarto queste due carte per due energia e vado ad utilizzare un down, un up e un fotone più tre energia per prendermi il jolly. Allora, qua dobbiamo assolutamente rinforzare. Quindi un protone e un neutrone li aggiungiamo qui. Vediamo se già mi posso prendere qualcosa. Allora, intanto scarto... Potrei scartare queste. Sì, scartiamo queste per tre energie. Attualmente mi posso permettere solo l'elio che è la carta meno costosa. Tuttavia è un pochino uno spreco. Questo perché tutti i miei contatori devono essere azzerati. Quindi se c'è un surplus nelle mie risorse le devo scartare. Non è ottimale, effettivamente. Però in questo gioco bisogna darsi anche un pochino una mossa. Quindi lo faccio. Quindi due protoni, due neutroni, due elettroni. Come notate sulla mia plancia ho un surplus di due neutroni. Tuttavia, se prendo una carta devo azzerare tutto quanto. Vado a pagare cinque energie. E mi prendo questa carta qua che è un elio. varrà quattro punti a fine partita. Me la tengo a faccia in giù di fronte a me. Ogni volta che si completa una molecola il giocatore va a piazzare due cubetti su questa plancia. Può mettere due cubetti sullo stesso spazio o su due diversi. L'importante è che non può mettere i cubetti nella molecola corrispondente. In questo caso l'elio deve scegliere qualcos'altro. Se ci sono dei token può scegliere uno dei token che terrà da parte e lo può utilizzare in qualsiasi momento per ottenere il suo beneficio. Quindi, per esempio, posso mettere un cubetto qui e un cubetto qua. Scelgo uno dei due. Per esempio, questo qua che mi fa guadagnare quando voglio quattro energia. Allora, se cosa faccio? Due neutroni. Me li aggiungo qui. Cerchiamo di potenziare la situazione. E qua abbiamo due down. Un po' troppi per i neutroni. Il fotone lo lascerei? No. Mi prendo tre energie. E il gioco fluisce in questo modo con una crescita molto graduale. Come vedete, iniziamo molto a rilento perché i down, gli up, i fotoni per creare i protoni, i neutroni ci vuole un pochino di tempo. Poi iniziamo ad avere le carte doppie queste che creano più efficienza. Importantissimo come qualsiasi deck building annientare le carte quindi rimuovere gradualmente gli up, i down dal mazzo. E poi a fine partita oltre ai valori indicati dal mass number abbiamo anche gli end goals quindi c'è un calcolo di maggioranze. Per esempio, se siamo piazzati così si va a vedere chi ha la maggioranza e chi ha il secondo posto. Chi ha la maggioranza prenderà per esempio quattro punti per ogni carta elio il secondo due punti per ogni carta elio. In più ci sono questi bonus istantanei che prendiamo come notate sono molto limitati. Insomma, un gioco gioco veramente molto semplice. Non spreco altro fiato abbiate pazienza per un gioco così tanto semplice. Ci vediamo per un altro gioco. Saluti. Iiii. Iiii. Grazie.